Siamo adesso al quarto incontro della serata di White House 1-1-1, tre round da tre minuti ciascuno. All'angolo rosso e dal team Second Out di Parma, uno score di 17 match di risultati, 10 finiti, 3 pareggi, 4 sconfitte, signore e signori, Antonio Cinco! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo un grande rispidante dal team di Copac Sport Italia di Ferrara con uno score di 23 match disputati, 13-20, 5-20 per K.O., 2 pareggi, 8 sconfitte, campione mondiale di UTK 2012, campione mondiale IAXA 2014, all'angolo blu, signore e signori, Damiano Pelizzon! Grazie! 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 Arbitra l'incontro Gian Mario Girasole! Musica! Porta il disco! Porta il disco! Vai Zicco! Vai Zicco! Genio, genio. Come on! Vai Zicco! Vai Zicco! Vai Zicco! Vai Dico! 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 Stop. Fight. Stop. Fight. Fai Ditto! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! Dico! Sette, otto! Un abrazo! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! Vai, Dico! VINCE! 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 VINCE!